Oggi ci troviamo a Castelfalfi, un borgo incastonato nel cuore della Toscana e circondato dallo spettacolo naturale delle verdi colline toscane. Ci troviamo nel cuore della Toscana, siamo al centro del triangolo tra Firenze, Pisa e Siena. Siamo anche vicini ai famosi borghi di San Gimignano e Volterra, tanto conosciuti e apprezzati dal mondo intero. Se sei un appassionato di golf, qui alle mie spalle e quindi molto molto vicino alla proprietà, puoi metterti alla prova e divertirti nel campo da golf più grande dell'intera Toscana. Un campo da golf da 27 buche. Il nostro bellissimo casale è situato all'interno di una proprietà privata di circa 60 ettari, che annovera al suo interno solo casali tipici toscani, con alcuni servizi in comune come la piscina dove poterti tranquillamente rilassare. Ma andiamo a scoprire ora la nostra fantastica proprietà. Eccoci nel casale del golfista. 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 Grazie a tutti Quindi se cerchi una soluzione dove poterti rilassare tranquillamente ma vuoi allo stesso tempo essere vicino alle principali attrazioni turistiche della Toscana e alle città d'arte contattaci subito Ciao ciao! Grazie a tutti!